Firmata dalla Presidenza del Consiglio e dai Comuni di Perugia e di Terni, la convenzione relativa al bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie. A siglarla stamani il Premier Paolo Gentiloni e i sindaci Andrea Romizzi e Lopoldo di Girolamo. La cerimonia si è svolta in una delle sale della stazione ferroviaria perugina di Fontivegge, in uno dei quartieri che sarà oggetto degli interventi. Alla firma hanno partecipato la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, insieme a diversi parlamentari. L'Italia parla al mondo attraverso le nostre città e i nostri borghi, ha detto il Premier Gentiloni, è per questo che dobbiamo prendercene cura. Il bando fu lanciato nel 2016 dal governo Renzi, riguarda 120 città per un investimento complessivo di quasi 4 miliardi di euro, dei quali 2 miliardi di risorse statali. Per Gentiloni riqualificare le periferie italiane è anche un modo attraverso cui rilanciare il mercato interno, i consumi, l'occupazione. La soddisfazione dei sindaci di Perugia e Terni, quest'ultimo, di Girolamo, che vede in questo bando l'avvio di un processo di trasformazione della città a seguito delle crisi industriali che hanno svuotato quartieri e dell'espansione urbana, annunciando interventi nella zona nord-est della città e nell'area della stazione ferroviaria. Per la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, questi investimenti, ha detto per la riqualificazione urbana, sono un'iniziativa molto positiva per agire su quartieri che hanno bisogno di interventi di edilizie ed urbanistici, ma soprattutto di ricomposizione delle situazioni sociali. Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato anche il prefetto di Perugia, Cannizzaro, il Premier ha intervenuto anche su temi di natura economica. Finalmente, ha detto, siamo tornati ad un segno positivo di crescita e ancora oggi registriamo dall'Istat dei dati positivi per l'occupazione totale. Siamo arrivati ad un tasso che è un record per gli ultimi anni in Italia. Abbiamo, ha continuato, accumulato negli ultimi nove mesi ulteriori nuovi 300 mila posti di lavoro. Sappiamo tuttavia che la loro qualità è sempre esposta al rischio della precarietà e quindi lo sforzo è per rimettere in moto i consumi, le imprese, le potenzialità non solo del nostro export, che ha ormai dei numeri straordinari, ma anche del mercato interno, che è fondamentale.